Vi devo spiegare un po' di cose Ci sono quei luoghi che una volta lasciati mancano Profumi, ricordi riaffiorano costantemente E se anche a voi è successo saprete che prima o poi dovrete tornarci E il posto in cui sto andando è uno di questi Dopo un viaggio di quasi un giorno Non ci credo ancora di essere tornato in Indonesia A Bali Benvenuti Sarà la nostra casa per qualche mese Essendo il primo episodio che registro qui a Bali Vi voglio anche spiegare come faccio a sostenere a livello economico questa esperienza Questo episodio è in collaborazione con Fiscozen Un servizio che aiuta chi ha la partita IVA A superare gli ostacoli della burocrazia Ma ve ne parlerò più avanti Dopo esserci riposati un attimo Direi di rimetterci il casco e continuiamo In pochissimo si possono raggiungere posti come questo Risaia con i contadini che la lavorano completamente a mano E non c'è nemmeno un turista Siamo solamente noi E questa è la strada, anzi Il sentiero da percorrere Tra le risaie e la giungla Prime ore sull'isola E già da subito Bocca aperta Per qualsiasi scorcio E' pieno Sai che non avevo mai visto uno Se non venduto Già tagliato Quella che non c'ha dentro Che figo Senti Per te sono i primi giorni a Bali Com'è? Bellissimo Bellissimo Diciamo che te ne avevo raccontate di cose Allora C'è da dire Mi aveva fatto delle aspettative altissime Io ho passato la mia settimana in Cina A dire Oddio ma se non sarò la terza delle aspettative Rimarrò deluso per otto giorni Stavo già contando quanti giorni sarei stato a Bali Sono arrivato qua E' sopra le aspettative Cioè va da brividi veramente Oltre alle risaie così magiche L'Indonesia offre una molteplicità di luoghi Uno diverso dall'altro Questo non sarà un viaggio di vacanza Ma continuerò a creare contenuti Questo posto mi permetterà di creare contenuti differenti dal solito Con scenari unici e mozzafiato Ma non solo Questa terra mi trasmette energia positiva Quella necessaria per essere ancora più creativi Caratteristica fondamentale per il mio lavoro Buongiorno Ore 5 e 30 Ci stiamo preparando perché oggi faremo un piccolo tour Per visitare una piccola isola di fronte a Bali Nusa Lembongan Cerchiamo un caffè aperto a quest'ora Volide pronto Questa volta abbiamo portato i nostri caschi Dato che stiamo un po' più a lungo Siamo sicuri Innanzitutto di avere sempre il casco con noi E poi di avere il casco anche pulito E funzionante Con il motorino si possono prendere anche delle scorciatoie Come ad esempio questa Ball Con vista Belli carichi Ci aspetta il nostro driver che ci porterà al porto Ci siamo Siamo esattamente qua E ora prendiamo il traghetto per arrivare a Nusa Lembongan Pensare che qua due anni fa non c'era assolutamente nulla Quando abbiamo preso il traghetto la prima volta Siamo saliti direttamente dalla spiaggia Comunque questa è una delle tante esperienze Escurzioni che si possono fare su quest'isola E nostra intenzione non solo esplorare i dintorni dell'isola di Bali Ma anche spingerci un po' oltre E visitare l'Indonesia Quella vera Ormai Bali è una piccola bolla all'interno dell'Indonesia Quindi se non volete perdervi contenuti molto interessanti Iscrivetevi Per un attimo dovremmo salpare Ma prima di lasciare il porto Il capitano lancia un'offerta allo spirito dell'oceano Tranquilli non inquina E' costituito da un intreccio di foglie di palmo da cocco L'attraversata dura mezz'ora e nel frattempo voglio parlarvi di chi ha supportato questo episodio Tutti i partner con cui collaboro sono accuratamente selezionati Sono servizi o prodotti che utilizzo quotidianamente Oppure li ho testati per un lungo periodo prima di parlarvene Sono fondamentali per supportare il canale Ma allo stesso tempo possono essere utili per qualcuno di voi Che cos'è Fiscozen? E' un servizio online per la gestione della partita IVO Grazie a un commercialista dedicato e una piattaforma digitale E quali sono i suoi punti di forza? Come detto avremo a disposizione un vero e proprio commercialista fisico Sarà sempre lo stesso da quando sottoscriviamo l'abbonamento E soprattutto sarà specializzato nella nostra professione Per ogni nostra esigenza potremo confrontarci sia via telefono sia via mail Oppure volendo tramite l'applicazione ci si può servire della chat E si avrà una risposta immediata Essendo una piattaforma online si potrà avere accesso in qualsiasi luogo Come nel mio caso dall'altra parte del mondo Basteranno 2-3 semplici click per creare ed emettere una fattura elettronica Direttamente dall'applicazione Questo perché troveremo già dei modelli semplici e precompilati Che velocizzeranno notevolmente il processo Trovo molto utile il fatto che ogni volta che si emette una fattura Vengano calcolate le tasse che dovrò pagare l'anno successivo In modo tale da non avere nessuna sorpresa E piano piano posso mettere i soldi da parte per pagare le tasse E quando arriva il fatidico momento della dichiarazione dei redditi Nessuna paura si verrà assistiti Dopodiché riceveremo un classico F24 da pagare Detto questo il link in descrizione per prenotare una consulenza fiscale gratuita Con un esperto di Fiscozen Per capire quale potrebbe essere la soluzione più adatta alle vostre esigenze Oltre a questo uno sconto di 50 euro sul primo anno di abbonamento Penso che dovremmo essere arrivati all'isola Thank you Ci siamo Nusa Lembongan Questo sarà il mezzo della giornata Si è subito dei veri turisti Almeno non abbiamo l'aria condizionata a palla Ventilazione naturale La mia preferita Una delle particolarità dell'isola è la presenza di una foresta di mangrovie Per cui facciamo un giro con queste canoe Ci stiamo addentrando nelle mangrovie Non so quanto renda dal video ma devo dire che è parecchio impressionante È una vera e propria giungla con questi canali Le foreste di mangrovie sono delle vere e proprie osi di biodiversità Grazie alle diverse condizioni che si vengono a creare all'interno di esse Sono tra le pochissime piante terrestri che riescono a sopravvivere a contatto con l'acqua salata Qui alle mie spalle la lacrima del diavolo La particolarità di questa insenatura è che quando le onde si infrangono tornano indietro Creando questa lacrima E la guida ci dice che siamo fortunati perché con l'alta marea l'acqua arriva fino a questa altezza Sicuramente questo ponte l'avrete visto su qualche reel di Instagram E unisce l'isola di Lembongan E sì, si può passare anche col motorino Con l'isola di Chenningan Le macchine non possono passare E allora abbiamo cambiato mezzo Parliamo di prezzi Sicuramente il sud-est asiatico è un'ottima meta Perché rispetto all'Europa costa tutto relativamente meno Soprattutto se si va a mangiare tipico Si può spendere anche 2-3 euro a persona Lo stesso ragionamento è valido per le strutture alberghiere Si può spendere davvero molto molto poco E questo è sicuramente un punto a favore Fondamentalmente potremmo scegliere tra 3 tipologie di sistemazioni Gli hotel classici Gli home state come ad esempio questo E vi dico anche che sono i miei preferiti Ovvero sono tanti bungalow All'interno solitamente troviamo un giardino pazzesco con la piscina Costano intorno ai 30, 40, 50 euro notte Cercherò di stare intorno ai 30 euro notte Più che sufficienti per avere una sistemazione pazzesca Oppure si potrà optare per una villa privata Vi mostro la camera Noi siamo nella numero 2 Abbiamo a disposizione questa piccola area esterna Coperta con un tavolino per potersi rilassare Oppure lavorare Vi dico che c'è una temperatura perfetta E c'è anche un minimo di brezza Entriamo Sono circa 25 metri quadri di casa Un'altra scrivania piena di cose, caschi, cavi eccetera E sul retro il bagno privato Ho chiesto al driver se poteva fermarsi esattamente in questo punto Perché davanti a noi ci sono le coltivazioni di alghe Se avete capito bene di alghe Sono utilizzate sia per la produzione di cosmetici Sia per essere mangiate Ed è pazzesco vedere i contadini Non so come si chiamino Lavorare queste coltivazioni sommerse Direi di fare un voletto Traghetto per tornare E alle 4 Mancano 20 minuti anche meno E per quello che è partito E devo ancora mettere a posto tutta l'attrezzatura FPV Ritornati alla base Ringrazio Fiscozen per aver supportato l'episodio Vi ricordo che in descrizione troverete il link per la consulenza gratuita E 50 euro di sconto sull'abbonamento annuale Tenetevi pronti e sintonizzati Perché in valigia ho dei prodotti pazzeschi Che non posso ancora mostrarvi Ci vediamo in prossimi episodi E ci vediamo anche su Instagram Ciao